buongiorno milenio buongiorno anche alla tutti da bruno dalla germania allora milenio questa è una 50 special del 9 ottobre 79 il coloro suo è originale solo che se vedi ci sono a un paio di parti non so se si vede nel video che la vecchio proprietario si è messo a giocare un po con la bomboletta però tanto grave non è io devo fare ancora un po di ritocchi perché ci sono delle cose che non vanno perché gli ho voluto staccare un piccolo filo sotto perché se la vespa non mi parte appena attacco questo filo la vespa cioè non fa corrente non non va e io adesso spero che tu mi potresti aiutare io a questa vespa gli ho messo ruote nuove cerchi nuovi ammortizzatori nuovi davanti e dietro la sella è quello originale la vespa non sta male sta benino sono contento poi c'è anche il contachilometri originali il vecchio proprietario mi ha detto che questo sono i suoi chilometri originali non so se è veramente così poi come vedo questa leva qua è più lunga e quest'altra è più corta non lo so io adesso volevo cedere un consiglio a te Mirelio perché io non sono bravo come a te è che appena attacco quel filo la vespa non mi parte adesso ho staccato quel piccolo filo che non so adesso se sul video si vede bene c'è un piccolo filo scusa adesso vediamo se riesco a quadrarlo c'è un piccolo filo qua l'ho voluto stare di questo qua l'ho voluto staccare perché sono la vespa non mi partiva adesso la vespa parte però non mi funziona il faro davanti il faro di dietro e il clacso nemmeno mi parte cioè non non è che non mi parte che non mi funziona non lo so il problema dove sta e adesso volevo volevo almeno cercare di chiedere aiuto a te perché tu sei bravo su queste cose io non sono bravo sulla cosa cioè non è che sono bravo come te però volevo anche dirti molto molto grazie di cuore per questi bellissimi adesivi che mi ha spedito in germania e comunque ripeto non è che sta male la vespa sta benino io ho fatto un po di prove la vespa sta veramente bene non è non è male adesso cerco di farla partire vediamo se va la vespa va però come vedi e grazie non mi funziona le luci non mi funzionano e figura di adesso per spegnerla guarda cosa devo fare devo staccare il cavo questo qui per spegnere la vespa mi rende vedi questo è il problema che ho mamma mia mamma mia spero che mi puoi aiutare un grande saluto dalla germania da bruno per te e anche per la tt ok ti ringrazio molto scusa se adesso nel video vedi un po di casino ma questo è il mio garage c'è un po di casino dentro va bene ok video grazie di cuore ciao a presto